ciao a tutte oggi andiamo a parlare di un episodio in particolare fecheli farà la proposta di matrimonio a un car ma de mir è nettamente contrario a questa situazione prima di continuare però ti invito a lasciarmi un like e da iscriverti al canale un semplice gesto gratuito per me molto importante ma senza perderci in altro iniziamo a scoprire che in questo episodio un car e fecheli vengono smascherati pubblicamente da sermin e ali ramet in occasione chiede in matrimonio un car demi è molto contrariato ma vediamo tutti i dettagli la nipote di un car sermin ha intenzione rivendicarsi della zia così essendo in possesso di alcune foto che ritraggono un car e fecheli in atteggiamenti amorosi decide di inviarle per posta a tutti i giornali locali per metterla in cattiva luce e crearle così gravi problemi difatti il giorno seguente su tutte le prime pagine dei giornali esce l'articolo clamoroso su di loro con le foto pubblicate di un car e fecheli abbracciati i titoli sono scandalosi l'amore tra le due diverse personalità l'odio si è trasformato in amore la signora un car insieme all'assassino di suo marito sono questi i titoli che appaiono su tutti i giornali mentre sermin gode per la sua vendetta demir che ha preso la notizia in preda alla rabbia decide di andare a sparare al campo per poter sfogare questa rabbia da qualche parte nel frattempo anche zuleil legge lo scandalo e pensa che un car avrebbe dovuto rinchiudersi al suo posto invece di tenere come una prigioniera lei contemporaneamente demir decide di ritirarsi e si reca in villa il giovane adirato e furioso non avrebbe mai pensato potesse succedere uno scandalo del genere nella sua famiglia la grande un car è stata colpita e affondata e anche la sua famiglia è stata messa in cattiva luce sotto tutti i riflettori demir è arrabbiato e allo stesso tempo molto amareggiato e umiliato anche tradito dalla sua amata madre l'unica persona che non avrebbe mai pensato un car invece inizia a piangere a dirotto la sua potente figura è stata oscurata dalla clamorosa notizia nel frattempo zuleila cerca di tranquillizzare il suo marito demir ma vi starete chiedendo e fecheli giusto è l'ultimo ad apprendere ciò che è successo ramet è dal barbiere ed è proprio lì che viene a sapere di ciò che dicono i giornali fecheli perde il controllo per la prima volta è irato corre alla villa per prendersela con tutto lo staff sospettando che dietro la notizia ci sia lo zampino cioè crea timore estrendo la pistola e puntandola verso di loro ma fortunatamente arrivano il maz e musica per fermarlo a questo punto fecheli dichiara che la relazione tra lui e un car non è una cosa da poco rivelano che si amano da più di 40 anni e non è una storia giovane come tutti pensano il suo figlioccio e la sua bella nuora musica sono lì vicini a confortarlo fecheli appare sconsolato ma l'uomo non demorde e non si abbatte anzi corre da un car che le fa una proposta di matrimonio alla quale un car accetta senza esitare di fronte a questa situazione temire già amareggiato dallo scandalo appena successo perde completamente il controllo estrae la pistola puntandola verso fecheli dicendo alla madre che per lui non esiste più e decide di bruciare tutti gli abiti e gli oggetti che appartengono a un car per poterla dimenticare di tutto e per tutto solella nel frattempo gode nel vedere un car soffrire in queste condizioni e anche il ma se contrario questo matrimonio i due amanti sembrano essere rimasti senza l'appoggio delle proprie famiglie d'altronde sono nemiche da una vita non potevano aspettarsi altra reazione ma nonostante ciò iniziano ad organizzare le loro nozze anche se un car è molto abbattuta a causa di ciò che le è successo la matriarca si è vista cadere il mondo addosso ed è rimasta amareggiata soprattutto per come ha reagito suo figlio demir che le ha distrutto tutto la maligna sermine fa di tutto per mettere in cattiva luce un car e continua a sparlare di sua zia e fecheli in tutta cucurova dando modo così di spettegolare a tutti gli abitanti del paese nel frattempo anche zulela reagisce con una sorta di vendetta per tutto ciò che le ha fatto passare un car avendola resa una schiava ostacolando il suo vero e grande amore e soprattutto costringendola a sposare suo figlio demir zulela non ci può proprio passare sopra questo matrimonio ma le cose proseguono e arriva il giorno delle nozze il giorno più atteso e felice per un car e fecheli che finalmente possono coronare il loro sogno d'amore tanto desiderato da oltre 40 anni e fiancheggiata da sanier l'unica persona affidata che le è stata sempre accanto così mentre tutto sembra andare per il verso giusto zulela non ha intenzione di fargliela passare liscia a un car e si reca a range per impedire le nozze qui rivela fecheli la verità davanti a tutti zulela svela che ha sposato demir solo per volere suo e della sua madre loro sapevano che zulela era innamorata follemente di ilmaz e nonostante ciò la matriarca l'ha costretta a sposarlo minacciandolo di togliere la vita il motivo per cui zulela si è sacrificata all'ira met fecheli rimane senza parole perché la sua amata unca gli ha sempre raccontato una versione diversa fecheli sapeva che zulela ed emir fossero felici insieme pensando anche che ilmaz fosse il fratello di zulela così fecheli chiede spiegazione a unca mentre zulela continua la sua rivelazione svelando tutto ciò che la matriarca le ha fatto passare in tutti questi anni dalla segregazione fino a toglierle del tutto suo figlio così fecheli sbalordito guarda unca come se fosse una sconosciuta fecheli non immaginava tutto ciò e rimane deluso e ammareggiato tanto da annullare il loro matrimonio zulela finalmente sta avendo la sua vendetta e stanno arrivando le soddisfazioni che tanto bramava contro la signora uncar le anticipazioni sono terminate ma fateci sapere cosa ne pensate siete anche voi entusiaste di ciò che è riuscita a fare zulela commentate sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video ma prima di andare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati e non perdere le ultime novità 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 Grazie a tutti